Buonasera amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting, sia che siate nella diretta su LinkedIn, sia che ci seguiate come spesso accade in podcast o eventualmente anche sul canale YouTube sul quale è presente la registrazione anche con il video. Siamo arrivati al diciannovesimo episodio che è il primo del 2022 e abbiamo deciso di trattare un tema piuttosto interessante per il momento, anche un tema impegnativo, ma lo facciamo con un ospite sicuramente di altissimo livello che vi presento immediatamente portandolo in primo piano, anzi portandolo in video, non so neanche se si chiama un primo piano, poi me lo direi tu. Alberto Contri, benvenuto Alberto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, intanto così, presentare Alberto è un po' impegnativo, ma brevemente. Attualmente è un docente di comunicazione sociale allo Iulm. Poi in realtà, per quello che io lo ricordo da quando sentivo le prime volte il suo nome, io lo considero uno dei padri della comunicazione sociale in Italia, ricordo l'esperienza di pubblicità progresso, che è stata un'esperienza che ha segnato un po' la vita di tutti noi, poi trasformata in fondazione per la comunicazione sociale, se dico bene. Ma un'altra cosa interessante è che Alberto, per più di 20 anni, 22 mi sembra, ha lavorato nel mondo farmaceutico-medicale. E questa è una cosa che in qualche piccola parte ci accomuna, e poi vedremo un attimo perché. Dicevo, il tema che affrontiamo questa sera nel nostro inconsueto formato della conversazione è un tema molto impegnativo. Paradossalmente è un tema del quale sembra si parli tanto, ma in realtà il dibattito, il confronto un po' reale su dati e argomenti seri e profondi, in realtà è piuttosto limitato. Il nostro obiettivo dei Sustainability Talks è quello di trovare spunti e dare idee che possono essere utili alle imprese e che vogliono impegnarsi concretamente sulla sostenibilità nelle sue tre dimensioni, sociale, economica e ambientale. Abbiamo scelto il titolo Sostenibilità e gestione pandemica, e non Sostenibilità e pandemia, perché sulla pandemia e su come invece viene gestita ci sono molte cose che andrebbero forse dette e che non lo sono. Ti passo la parola con questa riflessione, però c'è nato che abbiamo qualche cosa in comune nella esperienza professionale legata al mondo medico-sanitario. Io non ho bazzicato meno di te, ma comunque a dei livelli interessanti. Mi chiedo se non è questo che fa di noi un po' delle eccezioni che forse in tempi abbastanza brevi si sono cominciati a porre delle domande perché c'era qualche cosa che non funzionava. Non lo so, perché io resto stupito a volte delle poche domande che le persone si pongono. Allora mi dicono, forse noi, perché ci abbiamo bazzicato un po', ma c'è anche chi ci bazzica e non se le fa. Quindi cominciamo a dire, tu quando è che hai cominciato a dire ma questa gestione qui lascia un po' a desiderare? Siamo eufemistici oggi. Allora, soltanto una brevissima premessa. Io ho lavorato dal 72, ho iniziato la mia carriera come copywriter giovanissimo per sei anni in Mondadori, tre anni allo sviluppo periodico e tre anni allo sviluppo dei libri, alla promozione dei libri. Poi lì ho conosciuto un personaggio che apriva in Italia la serie italiana di quello che è diventato per anni il più grande network mondiale specializzato sull'informazione della classe medica ed è durato fino al 93, quindi 21 anni. E in quegli 21 anni io ho lavorato sempre sul fronte comunicazione, quindi per creare i contenuti e i mezzi per parlare ai medici. per 21 anni ho lavorato con tutti i grandi big pharma, ma soprattutto organizzando spesso in Italia le convention internazionali perché questi amavano venire con l'aereo privato a Taormina, piuttosto che sul lago di Garda, piuttosto che a Como, come noi venivamo portati poi a convention, a Capulco, Marrakesh, Santo Domingo, o cose di questo genere. Erano periodi in cui si viaggiava molto, si portavano in giro centinaia di medici, era una cosa veramente interessante. E anche divertente, se vogliamo. Ed erano periodi in cui ancora si inventavano dei farmaci importanti per cui bisognava raccontarli, bisognava spiegarli ai medici. Ricordo un aneddoto, ho lavorato per un anno fianco a fianco con il famoso professor Aiuti, il più grande immunologo d'Italia, che era un personaggio difficilissimo, che però amava stare solo con me e il mio art director svizzero, che eravamo capaci di trasformare tutte le sue lezioni di immunologia. Nel primo documentario scientifico che parlava di queste strane polmonite interstiziali che si verificavano nella comunità gay di San Francisco, lui fu il primo a dire che questo non è un batterio ma è un virus, e fu il primo a parlare in Italia di EDS. Ma questo per dire che per poter spiegare ai medici queste cose abbiamo dovuto studiarle. E quindi occupandomi un po' di tutte le patologie, io credo di avere acquisito una visione olistica della medicina che raramente il medico ha. E ho imparato anche un'altra cosa, che mediamente il medico di base è molto ignorante. lo dico senza ombra di dubbio, cioè una volta che è uscito dall'università si dimentica che il sapere medico si rinnova di fatto ogni sette anni, quindi dopo 15 anni che uno ha preso la laurea, praticamente siccome non ha più tempo neanche fisico, materiale, uno che ha 1500 pazienti come fa a leggere un articolo scientifico o a leggere del materiale, e allora noi abbiamo innanzitutto una platea medica molto molto poco al corrente delle novità di carattere scientifico o comunque in grado di dibattere. In Italia abbiamo poi un altro problema, che da quando ai tempi famosi di Poggiolini, De Lorenzo e ancora prima, con Aleotti, presidente di Farmindustria, cosa succedeva? Che le addite americane per avere in Italia, concedere in Italia la loro molecola, cioè non concedere, promuovere in Italia la loro molecola e avere un alto prezzo, dovevano concedere la stessa molecola in subconcessione a un paio di aziende italiane. Per cui da sempre, ma da molti anni, i medici hanno della stessa sostanza, con lo stesso nome chimico, hanno tre prodotti commerciali diversi, che gli viene presentato da tre forze vendite diverse, informatori medico-scientifici diversi, che gli portano tre tipi di materiali diversi e in realtà parlando sempre della stessa sostanza, quindi questo gli provoca anche una confusione mica da ridere. Va bene, questo era solo per dire che, naturalmente lavorando con le grandi big pharma, sono entrati nei dettagli, a conoscenza di come loro si muovevano, con la loro lobby, presso i ministeri, ma presso anche l'Europa, ma anche presso gli ospedali, per avere i pazienti per fare le sperimentazioni in doppio cieco, eccetera, eccetera. Quindi conosco tutto l'ambaradanda all'interno. Mi sono cominciato a rendere conto, ho cominciato a rendermi conto, che c'era qualcosa che non andava, confrontando la narrazione che passava, diciamo, sui media mainstream, di questi vaccini che io ho capito immediatamente, leggendo un po' di letteratura scientifica, cosa che io so fare, ma per obbligo professionale, accorgendomi che non erano vaccini per nulla, ma erano terapie sperimentali, insomma. Quindi mi sono cominciato a preoccuparmi, nel sentir dire sono efficaci e sicuri, quando se uno va a cercare, nella letteratura dell'mRNA messaggero, sul fronte vaccini, negli ultimi vent'anni non è uscito praticamente nulla, soltanto qualche anno, ma neanche negli ultimissimi anni è uscito qualcosa. Quindi io ho avuto un battiveco colossale con il professor Bassetti, il quale diceva, ah ma queste cose, la BioNTech le studia da tanti anni, giustamente lui è consulente da BioNTech, quindi dice queste robe, dico ma scusi, ma come si studia da molti anni? Si studia la tecnica da molti anni, per carità, ma che poi l'applicazione del vaccino è una roba recentissima. Tra l'altro... Ti fermo un attimo Alberto, però, perché non vorrei scendere troppo nel dettaglio degli aspetti, diciamo, medico-scientifici, perché non è la nostra platea, ma secondo me hai toccato due tasti molto importanti nel tema narrazione, che mi fanno venire in mente il tuo intervento sulla neolingua al convegno che abbiamo fatto il 15 gennaio, no? No, dove eravamo insieme. Perché hai usato due termini, hai toccato due temi che sono tabù, cioè se li tocchi vieni aggredito, ma che in realtà sono chiave, secondo me, per comprendere alcuni aspetti critici della gestione pandemica dal punto di vista di sostenibilità. Cioè, vaccino sì, vaccino no, sperimentale sì, sperimentale no. E questo invece è molto importante precisare questo aspetto, perché molta gente si ha preso uno schieramento dall'inizio, è una balla che è sperimentale, questo è un vaccino, non si discute, ma questo però poi consegue determinati comportamenti. Quindi, scusami, ti riporto al punto che questa narrazione fallata ti ha messo in sospetto che la gestione fosse fallata pure lei. Ma poi è stata questa l'origine di tutto, per cui di qua un po' la cosa si biforca. Allora, c'è chi può essere in buona fede? Io penso che il Papa sia in buona fede quando dice bisogna vaccinarsi, dovete vaccinarvi, dobbiamo vaccinare i vaccini poveri, i paesi poveri, perché lui ha in mente il vaccino del morbillo, il vaccino era per tosse, voglio dire, il vaccino è qualcosa che protegge. Adesso ci sono dei meme anche tragicomici sulla rete, dove c'è scritto tutti i passaggi che abbiamo fatto, prima immunizzava, no, poi non immunizza, ma ti protegge, poi no, non ti protegge, però ti impedisce di ammalarti gravemente, no, sì, no, puoi andare comunque in ospedale, e poi alla fine uno dice, no, non muori, no, sì, però muori, però vai in paradiso. Cioè tutto il decalage è raccontato in questo modo e per dire come questo non è un vaccino, ma è un farmaco, è un vero e proprio farmaco, è una cura bene o male, ma tra l'altro è una cura tardiva, quindi il vero problema, se vogliamo parlare di gestione, se vogliamo andare al nord della questione, è che posso capire che i primi 3-4 mesi non si capiva niente, sono stati fatti un sacco di errori, ma gli stessi medici delle terapie intensive hanno detto, noi purtroppo abbiamo ammazzato un sacco di gente al quale abbiamo pompato ossigeno con pressioni elevatissime, avevano già, non sapevamo, dei polmoni talmente stracciati che glieli abbiamo lacerati del tutto, quando abbiamo capito che invece bisognava, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio, andava semmai a quei livelli pompato ossigeno in momenti alternativi, non sempre, e soprattutto bisogna cercare di eliminare la causa che portava alla trombosi dei vasi polmonari, questo lo si è capita molto dopo, ma anche questo rifiuto di fare le autopsie, non si capisce, o forse si capisce, per capire le origini vere, dopodiché, bisogna comunque spiegare un minimo di come si manifesta questa sindrome, cioè i primi 3 giorni si sviluppa sotto forma di una infiammazione, l'infiammazione si sviluppa con la febbre e allora se uno cerca di abbassare la febbre commette un primo errore perché la febbre è un meccanismo con cui l'organismo si difende dalle infezioni e dalle infiammazioni, quindi se uno non ha 41 è meglio che la febbre se la tenga e si faccia una bella sudata. La seconda cosa non deve prendere farmaci che abbassano la febbre come il famoso paracetamolo che sarebbe la tachiperina, perché il paracetamolo combina dei guai, perché abbassa la febbre da un lato quindi già ti mette nell'impotenza un esercito che tu hai a disposizione e poi ti blocca anche l'altro perché riduce l'efficacia del glutatione che è una sostanza che abbiamo nel fegato detta in soldoni che serve a differenza dell'infezione. Quindi uno prende il paracetamolo e si combina già dei bei guai perché tiene bloccati due eserciti che ti possono venire in soccorso. Contemporaneamente quando sono passati questi 3-4 giorni ed è questo il motivo per cui le cure precoci vanno fatte proprio precocemente al primo momento ai primi sintomi senza nemmeno aspettare un tampone e poi ne parliamo visto che parliamo di gestione quando questa infezione questa infiammazione passa e diventa trombosi nei vasi polmonari e quindi diventa e quindi comincia a mancare il respiro e allora hai l'ossimetro che ti dice che sei sceso a 92-85 e quindi comincia a preoccuparti e allora però quando sei a quel livello lì la malattia è già andata nel secondo stadio allora lì sì che diventano necessarie degli interventi molto importanti e che purtroppo sono molto spesso se tu hai poi qualche altra comorbilità sei veramente nei pasticci insomma raramente vieni a casa sulle tue gambe questo è il punto allora se vogliamo parlare di gestione o di cattiva gestione nelle quali si interseca l'intervento evidente delle case farmaceutiche che cosa è successo che sono state non si sono capite anche se diversi medici l'hanno capito che bisognava intervenire con queste terapie anche molto semplici perché poi cosa fai per curare l'infiammazione usa un antinfiammatorio usi le sostanze che servono a ridurre l'infiammazione usi le sostanze che servono da elevare la soglia delle difese immunitarie per cominciare prima ancora che questa cosa diventi una malattia molto difficile da curare come la trombose dei vasi polmonari e di altri distretti e così facendo passati i primi tre mesi quattro mesi quando questa cosa si è capita però non si capisce perché allora lì ho cominciato a sospettirmi è partita una delegittimazione di qualsiasi farmaco che potesse servire a bloccare l'infiammazione sul principio quindi l'idrossicolokine l'ivermectine eccetera eccetera lì possiamo raccontare una serie come un giallo un giallo che si è sviluppato tutto nel mondo delle riviste scientifiche che poi si è travasato nei media mainstream nei giornaloni nei quotidiani nelle tv in cui è passato questo concetto l'idrossicolokine non funziona l'ivermectina non funziona l'ivermectina è un farmaco per cavalli sono state dette delle cose allucinanti allora pensate che l'ivermectina è stata trovata da due signori che hanno pure preso un premio Nobel è un famoso antiparassitario ma che esiste per uso umano da sempre e poi esiste anche la versione per uso per uso letteritario che si è usata moltissimo ma la cosa tragicomica è che addirittura l'FDA ha fatto uno spot perché qualche americano cretino se l'è comprata su internet ma ha comprato l'ivermectina per uso e non è molto nessuno da quello che io so magari forse hanno avuto dei gran mal di pancia e naturalmente hanno fatto degli spot dicendo non la prendete non siete mica dei cavalli questa roba che è piaciuta tantissimo è passata sui nostri giornali ancora oggi noi sentiamo dire quando invece ci sono dei paesi dove questo farmaco viene mandato in un pacchetto in India per esempio o nei paesi sudamericani dal ministero della sanità c'è un pacchetto che contiene un antinfiammatorio l'ivermectina l'antibiotico sono tre sostanze che possono essere date l'antibiotico nel caso ci sia poi una superinfezione batterica e cose di questo genere però c'è stata questa delegittimazione per spingere per spingere questi benedetti pseudovaccini questa è la cosa grave allora domanda però intanto anche per gli ascoltatori del podcast c'è stato un commento di Giuseppe Miserotti un grande medico un carissimo amico il problema dei vaccini dei paesi poveri è un argomento buonista i paesi poveri che hanno fatto poche vaccinazioni hanno incidenze di infezione molto basse è molto vero è molto vero pensiamo che in Africa hanno il 6% di vaccinazione e hanno pochissime infezioni noi in Europa ma soprattutto in Italia che abbiamo il più alto tasso di vaccinazione abbiamo il più alto tasso di mortalità di contagio e di mortalità come mai qui la spiegazione c'è ma si va nel medicale spinto però allora non ci interessa tanto qui il medicale spinto ma ci interessa fare una riflessione cioè e tu sei sei l'uomo giusto secondo me per farla perché queste controversie che c'erano certo ci sono state questa campagna contro l'ivermettina contro l'idrossiclorochina ne abbiamo fatti tutti i colori ciò nonostante con un minimo di diligenza era pienamente possibile informarsi su quello che stava avvenendo su chi stava curando io per esempio che ho un legame ecco il mondo francese francofono seguivo il lavoro del professor Raul a Marsiglia che ha organizzato tra l'altro un bellissimo canale divulgativo scientifico fatto molto bene che dava continuamente informazioni dati aggiornava gli studi che loro facevano in ospedale non in televisione li facevano in ospedale Raul che ricordo ha un indice years vicino al 200 se lo ricordo male quindi basta vedere il suo curriculum c'è un curriculum che fa spavento quindi su questo io sono rimasto invece basito che le imprese soprattutto nelle loro forme associative cioè quelle che hanno anche i mezzi hanno i centri studi hanno la possibilità diciamo come la casalinga di Voguer di condividere le spese di un investimento di studio di quello che sta accadendo fin dall'inizio si sono allineate in maniera pazzesca dietro a una narrazione diciamo ufficiale istituzionale e giornalistica sostenuta mi sembra con più di 400 milioni di euro in due anni che andava tutti in una direzione e gli altri erano tutti pazzi questo lo trovo strano visto il danno che ha causato dei settori economici molto grave per il momento parliamo dell'aspetto economico poi vediamo quello sociale ecco questo tu che di comunicazione di impresa ci hai marciato tutta la vita come te lo spieghi questo silenzio o questo allineamento comunque silenzio io non so è un misto di ignoranza per certi aspetti di esattamente di 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 neolingua cioè uno dice ma come abbiamo i vaccini a disposizione e non li vogliamo utilizzare ma come perché la narrazione se vacciniamo le persone le persone possono lavorare se invece le persone non vaccinate si infettano non vengono a lavorare tracolla poi però si è arrivati nel paradosso che si sono fatti i lockdown che adesso col senno di poi si sta dimostrando che i paesi che non l'hanno fatti i lockdown stanno andando un pochino meglio di noi non moltissimo ma comunque meglio di noi quindi non hanno distrutto la Svezia la Danimac non hanno distrutto l'economia e hanno lasciato circolare il virus e tra l'altro adesso si ritrovano poi qui di nuovo bisognerebbe andare nel medicale spinto si ritrovano con un'immunità naturale molto più robusta perché quello che sta emergendo dagli studi inglesi danesi ma anche canadesi ma anche americani sta venendo fuori che chi si è ammalato del virus naturalmente ha un'immunità sviluppa un'immunità naturale molto più robusta e molto più duratura di quella del vaccino adesso si scopre addirittura che chi ha fatto due dosi ha un sistema immunitario compromesso e non si può andare avanti tutti i studi che vengono da Israele che sono quelli che hanno la punta più avanzata diciamo sono già arrivati alla quarta dose e stanno spiegando che più dosi dai più martellate dai per dirla in soldoni al sistema immunitario e più questo diventa mato non capisce più come reagire e più diventa debole addirittura c'è uno studio inglese dal quale si evince in preprint ma siccome è fatto sui dati degli UK Security Agency è sicuramente a posto che dice abbiamo scoperto che dopo due dosi addirittura il vaccinato si infetta di più di un non vaccinato proprio perché il sistema immunitario viene da operare naturalmente questa roba qua suscita delle grandissime discussioni in quelli che si sono scatenati però se noi se voi andate a vedere in rete troverete le affermazioni di Bassetti di Burioni di tutti i Virostar televisivi che hanno detto tutto il contrario di tutto via via nel tempo si sono poi sempre adeguati quindi ci interessano poco loro ci interessa perché il sistema delle imprese gli ha dato retta questo è grave questo è veramente grave perché io non penso che ci sia stato un rapporto diretto non lo so perché le possibilità sono molte fra il sistema delle imprese di Big Pharma delle farmaceutiche e il sistema delle imprese industriali certo bisogna fare molta attenzione a un fatto economico finanziario di portata più globale se noi andiamo a vedere io ho scritto un recente saggio cioè recente nel senso che è uscito a metà 2020 ma era l'inizio dei lockdown per cui non l'ho potuto ancora presentare si chiama la sindrome del criceto in cui parlo di tante cose fra cui parlo anche parlo di intelligenza artificiale parlo dei satelliti di masch parlo del problema del gender parlo di tutti questi problemi qua come portato avanti dalle multinazionali e però per andare anche a scoprire che alla fine nei board di tutte le più grandi multinazionali del mondo che si tratti di farmaceutiche che si tratti di industriali che si tratti di armi che si tratti di alimentari c'è ci sono black rock ci sono wellington ci sono vanguard ci sono i 3-4 fondi di investimento che da soli gestiscono oltre metà del pil mondiale quindi noi abbiamo lo stesso gruppo di persone che in mezzo insieme ad alcuni altri che sono le famiglie storiche che sono i Rosh di Lazardo eccetera più le famiglie nuove i Bezos i Zuckerberg i GAFA cosiddetti ma anche IBM e Compagnia Bella quindi anche Microsoft quindi anche Bill Gates se ci metti noi abbiamo un gruppetto di 15 persone 15 non di più che gestiscono l'economia di tutto il mondo a livello sovranazionale assolutamente sovranazionale e quindi sono in grado hai voglia a darti del complottista quando dici queste cose questi sono fatti oggettivi allora se tu vedi che hai gli stessi imprenditori non gli stessi ma gli stessi finanziatori che comandano per esempio tutti le sementi dell'agricoltura e quindi hai se non hai i semi della Monsanto vedi Bayer non puoi coltivare determinati grani piuttosto che perché se no l'Europa non te li prende quindi poi i farmaci devono essere allora capisci che anche il sistema industriale è preso dentro questa questa collettività economico-finanziaria la quale bisogna obbedire ok però il nostro il nostro uditorio non è fatto da nessuno di questi non credo che Bezos ci stia ascoltando no ma no è solo però per far sapere che purtroppo questa roba ci trascende per un po' sono d'accordo sono assolutamente d'accordo con te ma abbiamo un problema cioè l'azienda mia cliente piuttosto che mia vicino di casa che ha i suoi 70 operaie fa 20 milioni di euro e cena a casa in questo momento 15 che sono positivi stanno benissimo ma sono a casa le quarantene no più questo discorso che accennavi tu anch'io ho visto di recenti i dati tedeschi del Koch Institute sembra che effettivamente questo indebolimento sia reale quindi questo non so in prospettiva dove possa portare dico qui c'è c'è un danno reale dal punto di vista delle imprese di economia poi ricordo nel 2020 se ne ha parlato tanto poi un po' sparito dai radar forse io mi sono anche stufato un po' di seguire le cose gli allarmi di chi si occupava di mafia degli acquisti a tappeto che facevano le mafie di attività che chiudevano perché erano cioè fallivano perché erano state chiuse per dei mesi soprattutto commercio servizi eccetera quindi c'è questa grandissima questo grandissimo problema che cosa che cosa può fare l'impresa singola oppure qual è il consiglio che si può dare da un punto di vista di che ne so innovazione del suo modo di agire nel mondo in maniera collettiva secondo me l'impresa singola non può fare proprio niente gli imprenditori illuminati se ci sono ancora dovrebbero unirsi e ribellarsi per esempio a questa forma di green pass a questi lockdown a questo nuovo green pass che praticamente è il lockdown ma io c'ho qua una una dichiarazione delle guarda sia del ministro della sanità cioè no non del ministro della sanità israeliano avidor liberman che dice non esiste logica medica di epidemiologica nel green pass per dirlo lui che ha un impatto negativo sull'economia sul funzionamento del paese e ha un contributo significativo alla diffusione del panico tra i cittadini questo lo restiamo sul lato dell'economia quindi misto delle finanze di israele ripeto il paese più avanti sulle questioni della vaccinazione ma il professor Kimron capo del dipartimento di microbiologia dell'università di Tel Aviv che è uno dei principali monologi israeliani si lamenta perché sono stati bollati senza alcuna scientifica senza alcuna base scientifica le persone che hanno scelto di non vaccinarsi come diffusori di malattie quindi con la politica draconiana di discriminazione eccetera eccetera quindi lui parla apertamente di politiche distruttive e per terza citazione sempre da israele lo shiba medical center che dice che la quarta dose non protegge assolutamente contro il covid e quindi assolutamente inutile in più abbiamo lo stesso ministro della difesa israeliano che è risultato positivo dopo ben tre dosi allora nonostante ci siano tutte queste evidenze allora a fronte di queste evidenze bisognerebbe avviare io sto sentendo da quando ho avuto un po' di queste presenze televisive la gente mi scrive sul mio sito personale che è albertocontri.it che poi me lo rimbalza nella mia posta privata un sacco di gente disperata anche di piccole piccole imprese o gente che ha avuto effettico laterale che chiedono cosa si può fare per cercare di invertire questa tendenza per tornare a una vita normale perché se il concetto il riflesso condizionato è chiudiamo tutto perché è così oppure obblighiamo come ha detto ieri sera Sileri dobbiamo rendere la vita difficile a chi non si è vaccinato e il povero Montagnier che è stato accusato di tutte le turpitudine oltre che essere un rimbecillito è stato considerato è stato considerato ulteriormente rimbecillito per aver detto guardate che ci salveranno i non vaccinati capite quindi diciamo siamo in un momento veramente molto difficile adesso siamo per di più in questa questa roulette russa dell'elezione del Presidente della Repubblica in cui non si capisce niente però purtroppo si capisce e questo ci riporta di nuovo al discorso economico noi abbiamo questo è il mio giudizio personale mi assumo responsabilità abbiamo dei partiti che stanno lì unicamente perché vogliono acchiappare una fetta di PNRR e quindi stanno lì solo per un interesse per cercare di scavarsi qualcosa da dare ai propri d'anticausa e quindi vedete che così come anche penso che le ambizioni di chi vuole andare alla PNRR non sono esattamente nell'interesse del paese quindi siamo messi in una situazione che non è molto positiva l'Italia che si è sempre cavata per la grande capacità dei singoli di darsi da fare come piccola media impresa noi vediamo che soprattutto con la crisi energetica che già c'è piombata addosso che si decubblicherà e tutto il resto è proprio la piccola media impresa che ci va di mezzo e chi sono le grandi imprese di noi che siamo nelle grandi imprese ci sono BlackRock e Company questa possibilità di salvare l'Italia esule naturalmente da come dire delle ambizioni di Sustainability Talks come considerazione personale dico ahimè questo quadro nel quale le istituzioni non hanno al massimo della priorità l'interesse del bene comune non è una novità ma questo pertiene anche alla scarsa partecipazione dei cittadini alla politica degli ultimi decenni insomma il discorso farebbe ampio vorrei richiamare per riprendere un attimo discorso dal punto di vista dell'impresa perché il tempo scorre velocissimo tra l'altro la ISO 26000 perché la linea guida sulla responsabilità sociale di impresa della ISO e che per me è un documento straordinario del 2010 ma ancora attualissimo che nel punto 4.7 mentre il 4.6 dice che ovviamente bisogna rispettare le leggi come diciamo minimo sindacale quando si opera in un paese nel 4.7 dice che in realtà quando le leggi non sono conformi a quelle che qui io uso la versione inglese quindi lo traduco un po' così al volo quando non sono all'altezza delle norme internazionali di comportamento i principi di rispetto dei diritti umani per esempio l'impresa deve nel possibile il miglior modo possibile sforzarsi di rispettare comunque quelle regole e nel caso questo non fosse possibile riconsiderare la sua presenza in quel contesto in un punto successivo nel box 4 che sono dei box di maggiore spiegazione spiega che cosa è considerato complicità da parte dell'impresa nella violazione della responsabilità sociale e dei principi diciamo internazionali di buon comportamento e la complicità è quando con la dovuta diligenza si sarebbe potuto sapere che si era come dire portati a fare delle cose che erano contrarie a questi principi e addirittura anche quando stia in silenzio o benefici di questi atti allora adesso diventa un discorso molto complesso ma ci sono aziende secondo me che hanno fatto uno sforzo per cercare comunque rimanendo ovviamente nel rispetto delle legalità per non subire sanzioni anche forse per un valore etico cercando di andare incontro alle persone banalmente ci sono aziende che hanno pagato i tamponi ai dipendenti che non si volevano vaccinare ce ne sono altre che hanno messo in croce quelli che non volevano continuiamo a dire vaccinare ma abbiamo capito che non è il termine giusto insomma partecipare a questa sperimentazione di massa quindi una via possibile per conservare anche all'interno dell'impresa che poi è fatta di persone cioè veniamo di più all'aspetto sociale cosa sta creando questa situazione nella nostra società nell'interno delle imprese delle organizzazioni nell'interno delle scuole nell'interno delle istituzioni dove ci sono persone che cosa stiamo vedendo che cosa sta accadendo al nostro tessuto sociale anche ahimè col bene placito delle più alte istituzioni dello Stato ma innanzitutto io l'ho visto anche leggendo altri pensatori che non sto qui a elencare la cosa più grave che è stata fatta oltre la cattiva gestione che abbiamo detto il problema è stato preso dalla coda invece che dalla testa no? si è stato indicato il vaccino come un'unica soluzione quando la prima vera soluzione era invece che per esempio buttare 400 milioni di euro nei banchi a rotelle pensate quante stupidaggini sono state fatte quanti soldi sono stati buttati potevamo assumere 5 mila medici giovani medici o 20 mila infermieri mandarli a casa dei pazienti eccetera eccetera la medicina del territorio di cui tanto si parla quando si dicono queste cose generiche il territorio ma io c'è un medico di base che da 40 anni non è mai venuto una volta a casa mia e prima di 5-6 giorni non risponde al telefono quindi io faccio tempo a non solo paracetamolo o vigilatesa ma a trapassare se avessi bisogno quindi c'è un guaio strutturale che è stato che è tremendo ma la cosa più grave è stato mettere gli uni contro gli altri io quello che ho scritto anche più volte ormai visto che ho la mia età e posso permettermi di prendermi certe libertà come mai il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio si sono permessi di mettere gli uni contro gli altri di dichiarare un tori quelli che non si vogliono vaccinare dichiarare 10 milioni di persone come se fossero fuori dalla nostra società augurandosi che potessero ritornare quando pian piano si sta scoprendo che magari sono quelli che invece ci aiuteranno a mantenere un'immunità naturale molto più robusta e migliore di quella di questo fantomatico vaccino la cosa più grave è stato mettere in ogni famiglia incluso la mia c'è una guerra perenne in chi ritiene che che chi esprime soltanto perché poi io per esempio esprimo dei dubbi su questi vaccini io ho tutti gli altri vaccini possibili e immaginabili ma uno che si permette di esprimere dei dubbi critici ha ragione veduta poi conoscendo bene cosa c'è cosa non c'è dentro cosa fa cosa non fa e leggendo gli effetti collaterali mostruosi dovremmo poi aprire anche lì si va di nuovo nel medicale spinto ma la farmacovigilanza attiva passiva che c'è nel nostro paese è una roba che per dire è una rete senza maglie sarebbe poco da dire cioè praticamente non si riesce a sapere nulla comunque se si fa un confronto col sistema virus americano con un sistema di vigilanza semiattiva cioè per telefono ti chiamano ogni tanto tutti quelli vaccinati per chiederti non tutti statisticamente è un numero rilevante e da lì si scopre che ci sono gli effetti collaterali da noi sono sottostimati del 580% che sono delle la differenza tra attivo e non attivo perché per i profani è difficile capirlo ma anche questo è importante per comprendere la vigilanza la vigilanza passiva vuol dire questo vuol dire che se uno ha fatto un'iniezione un inoculo e magari gli è venuta una paralisi al dito mignolo come è successo oppure un sistema che poi sono quasi tutte in larga parte questione di carattere del sistema nervoso oppure dei pruriti insopportabili oppure dei problemi per esempio molte donne hanno avuto dei problemi sul ciclo molto forte allora deve riferire questo stato al suo medico il medico deve compilare un verbale però nel compilare questo verbale cosa deve fare? deve ricostruire tutta la storia clinica del paziente riferire quale altre malattie c'è questo paziente già se è un medico di base che non ti vede da 40 anni hai voglia che debba fare quanto ci metti a ricostruire una roba del genere poi deve andare a inserire il numero del lotto del vaccino che se per caso non ce l'hai sul certificato diventa praticamente cercare l'ago nel pagliaio questo pezzo di carta viene mandato all'AIFA l'AIFA lo fa esaminare dai suoi esperti che poi lo rimandano indietro dicendo al 99% non c'è correlazione perché il professor Belavite che è un famoso immunologo ha dimostrato che l'algoritmo con il quale vengono raccolti e considerati correlabili gli effetti alla vaccinazione praticamente escludono quasi tutto quindi già questo ti fa capire la vigilanza attiva che da noi non c'è dovrebbe essere un sistema come quello americano in cui tu ma basterebbe farlo come diceva lui anche su base statistica e prendere 200 pazienti di una città e chiamarli tutti i giorni per due mesi per sapere come sono andati allora tu li dividi in diversi quartieri e in un attimo diciamo hai una visione statisticamente rilevante non si fa niente di tutto ciò quindi già siamo in mancanza di dati per cui quando sentiamo questi virologi che dicono ma anche il ministro Speranza e ho anche il CTS dove non c'è nessuno per esempio non c'è nessun farmacologo fra di loro non c'è nessun farmacologo e allora questi farmaci non hanno fatto i test di carcinogenicità e genotossicità perché sono stati ritenuti pari ai vaccini di una volta per i quali non venivano richiesti e quando invece sono sostanze che come dice ma non solo montagne e tanti altri possono produrre degli effetti a lungo periodo quindi era il caso di farlo non li ha fatti la Pfizer poteva farle il ministero tranquillamente l'AIFA no perché i formal non lo prevedono allora praticamente ci siamo allora se noi parliamo di responsabilità sociale qui siamo alla massima irresponsabilità sociale sarebbe come un titolare di un'azienda che ne so che produce pasta improvvisamente accetta di mettere dentro la pasta un collante che serve adesso invento in questo momento che serve a conservare la cottura ma senza domandarsi se questo abbia sia per uso alimentare o no perché tra l'altro si scopre che dentro i vaccini ci sono due principi che vengono usati a meno ho visto da diversi lavori che sono usciti che vengono che dimostrano che questi eccipienti non sono utilizzabili per uso umano e allora lì è una cosa che rimasta nessuno ha mai risposto a questa faccenda allora capite che qui si parla di responsabilità sociale mi rendo conto perché tu sia l'incubo dei giornalisti professionisti che cercano di farti tacere perché dal mio dilettantismo faccio molta fatica ad arginarti ma avremmo due minuti e noi abbiamo ancora toccato alcuni aspetti fondamentali per l'attività di impresa quindi assumo la responsabilità di aver lasciato correre perché ci sono anche delle informazioni che hai passato le quali pochi hanno accesso e secondo me è importante perché comunque nelle imprese siamo anche persone siamo cittadini dobbiamo fare le nostre valutazioni però tu ti sei mosso per anni nel mondo della grande impresa delle imprese internazionali quindi un aspetto secondo me molto importante per l'impresa che in questa gestione è completamente violato è quello della certezza del diritto cioè noi abbiamo visto anche io ho una formazione giuridica quindi ho visto fare degli obrobri giuridici un'inversione completa della gerarchia delle fonti atti amministrativi che cancellavano diritti costituzionali un casino terrificante imprese che avevano ricevuto delle istruzioni per adeguarsi in una certa maniera hanno speso dei soldi poi si sono trovate chiuse perché di nuovo confinamento e chiusura un pasticcio terribile dal punto di vista dell'investitore vogliamo sempre cercare di rendere di nuovo l'Italia un paese attrattivo per gli investimenti per lo sviluppo eccetera il tema della certezza del diritto come lo vedi tu che hai vissuto in questo mondo ma io vedo semplicemente che questo problema sta diventando mondiale che il ho visto proprio ieri un video dell'avvocato Fulmich il tedesco che ha messo in genocchio la Volkswagen a suo tempo con la storia degli scappamenti piuttosto che la Deutsche Bank che sta creando una Norimberga 2 perché accusando tutta una serie di persone da Fauci in testa all'OMS di aver distrutto l'economia in tutto il mondo con questi allora per esempio in questi giorni quando sono state dati i cosiddetti minimi ristori alle imprese com'è che improvvisamente tutte le associazioni industriali che fino a ieri cantavano le lodi di Draghi all'unisono hanno detto non basta non è sufficiente adesso stanno scendendo in sciopero i tabaccai stanno scendendo in sciopero quelli che fabbricano cartone e legno perché non si trova più l'orea sul mercato insomma questa crisi energetica e tutto il resto allora improvvisamente c'è una presa di coscienza perché come dice Agamben il Green Pass è un obbrovio giuridico ma io aggiungo è tanto più un obbrovio in quanto è basato come dice il ministro dell'economia di Israele su presupposti scientifici inesistenti e questa è la cosa grave e questo ci riporta di nuovo a un concetto di irresponsabilità sociale perché se noi all'origine di un percorso di un ragionamento razionale ci mettiamo un principio errato è chiaro che tutto quello che segue sarà errato quindi noi adesso stiamo recludendo una quantità di persone che di fatto avete visto nei saldi non c'è nessuno che va in giro a comprare nei bar comunque molti ristoratori che chiudono perché comunque molta gente oramai non va nemmeno più i ristoranti perché molti non possono eccetera eccetera e questo si sta creando per niente per un problema adesso per una variante che si cura come un raffreddore ma questo è drammatico questo è drammatico ma questo non so se tu hai letto un libro The Great Covid Panic scritto dal Brownstone Institute pubblicato dal Brownstone Institute è molto interessante fa delle ipotesi analizza dei dati molto 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 bello sulla sulla spiegazione della teoria delle folle e quindi del modo in cui sia stata gestita dal punto di vista comunicativo e manipolativo la situazione ma soprattutto quello che mi ha veramente colpito è stato che smonta un po' anche le ipotesi di grandi vecchi nelle stanze buie che decidono le cose di tutto il mondo ma alla fine fa delle considerazioni degli esempi sconsolanti sul fatto che in realtà abbiamo delle classi dirigenti anche tecnico scientifiche di una mediocrità straordinaria cioè alla fine anche misure sbagliate sicuramente ci saranno stati anche degli effetti degli interessi economici da parte di alcuni dietro eccetera però in realtà è anche vero che noi ci troviamo poi che nei posti di comando delle istituzioni delle istituzioni scientifiche accademiche dei centri di ricerca eccetera eccetera dovevano delle gente mediocre ti suona questa di là del consiglio bibliografico ma scusa io ho sempre sostenuto che per arrivare a fare l'amministratore delegato di una grande impresa per esempio ne conosco diversi che hanno fatto l'insead hanno fatto la londo scuro economis come master eccetera noi per arrivare a fare il ministro uno deve avere il doppio di competenze di questi qua altro che storie com'è che noi oggi abbiamo un ministro degli esteri che poverino con tutto il rispetto vendeva le birre allo stadio che cosa può avere imparato in questo infatti vediamo che in questo momento in cui sarebbe essenziale un dialogo diretto con la Russia per vedere di farci dare il gas questo sta zitto non dice niente aspetta che Biden dica qualcosa ma se vogliamo esaminare l'era del grillismo è stata una tragedia dal punto di vista della competenza perché l'uno vale uno è passato come uno schiacciassassi su tutto perché noi abbiamo persone qualunque con tutto il rispetto che non sapevano fare null'altro che il loro povero mestiere che sono andati a dirigere il nostro paese ma questa è una roba che non sta né in cielo né in terra io credo che noi siamo arrivati veramente in fondo in fondo a una situazione che peggio di così non poteva andare però stendiamo un pietoso velo sul tecnocatro numero uno a questo punto perché questo è l'ultima fase ma questa è l'ultima fase della fine di Bisanzio perché a questo punto come stiamo vedendo sembra che sia lì per vendere l'Italia a pezzi a migliore offerente come sta succedendo per Ita come sta succedendo per gli grandi alberghi come sta succedendo cioè mi pare che la lucida e luciferina intenzione di vendere gioielli di famiglia quel poco che resta ci sia e come ma quello che più mi fa posso dire schifo è vedere gli avanzi dei partiti che oggi sono lì ma sono lì e si mordono la lingua pur di stare lì pur di acchiappare qualche pezzo di PNR quindi di nuovo siamo a una serva Italia che cerca soltanto di fare i propri affari e punto e basta e poi muoia Sansone con tutti i filistei per la verità saremo già morti cerchiamo di raccogliere tutti quelli che invece cercano di ribellarsi e cercano di costruire io devo dire che in questo periodo ho trovato nella grande disperazione di vederci come siamo ridotti ho trovato dei momenti di solidarietà delle associazioni che per esempio fanno raccolte fonti per pagare gli stipendi a quelli che non possono più lavorare ho trovato delle forme di associazionismo molto molto interessante che viene dalla base ma sto scoprendo mille zampilli in tutta Italia questa roba è un fatto positivo e da lì però bisognerebbe ricostruire una scuola di formazione politica perché quando dovessimo andare a votare poniamoci quest'ultima domanda ma chi votiamo poi? Chi votiamo? Chi mandiamo nella stanza dei bottoni? Dovremmo mandare della gente preparata questa gente non c'è più un tempo c'era quello che aveva fatto tutto il curriculum il corso sonoro era andato il comitato di quartiere poi il consiglio comunale poi la provincia poi la regione poi alla fine finalmente andava in Parlamento sapeva tutto dell'amministrazione pubblica oggi abbiamo il venditore di bibite che fa il ministro degli esteri ciao allora speriamo bene che non siamo abbiamo un po' l'idea di essere l'aria di essere in un cupio di solvi incosciente al 100% però è vero che sto concordo e condivido anch'io questa esperienza cioè in realtà negli ultimi due anni ho visto delle cose orribili ma ho visto davvero tante persone risvegliarsi riscoprire la solidarietà l'aiuto reciproco quelle piccole cose quelle gentilezze quelle piccole violazioni di legge che sanno fare gli italiani tipo offrirti un caffè caldo se c'è freddo fuori anche senza chiederti il Green Pass al Bar è una cosa che ho letto l'altro giorno ma che dicono comunque che restiamo umani anzi forse nella disumanità di questa sceleratezza perché poi appunto dov'è l'interesse qui alla fine ci si sta facendo del male a tutti secondo me si sta risvegliando qualche cosa di bello io penso che possiamo fare un invito agli imprenditori alle persone nelle imprese perché poi io ho una visione imprenditoriale abbastanza condivisiva essendo nato in un'impresa in una famiglia di imprenditori imprenditori c'è modo comunque di restare umani e credo profondamente che questo sia un tempo di riconciliazione cioè siamo stati troppo facilmente presi dal gioco del metterci farci mettere uno contro l'altro negli ultimi due anni molte persone secondo me ci sono cadute per paura e per mancanza di informazione e posso capire perché appunto come abbiamo aperto la conversazione tu e io per accidente abbiamo mezzi per avere un pochino più di informazione di competenza ma non tutti le hanno e sono stati mal guidati adesso c'è accesso più facile a tante informazioni sono nate anche tante attività indipendenti di informazione poi anche lì ci sono i matti ci sono tutte le parti però comunque abbiamo imparato anche in questi due anni a essere un pochino più attenti a dedicare un po' più di attenzione a come ci informiamo dove sono le nostre fonti e quindi penso che questo si possa sicuramente raccomandare Alberto ci siamo mangiati abbondantemente tutto il tempo ma mi piace sottoporti così parlo anche un attimo di loro per chiudere una citazione di Popper che prendo dalla commissione medico-scientifica indipendente dalla sua home page perché tra le altre cose che sono nate sono nati dei gruppi di scienziati che non vanno a perdere tempo in televisione invece studiano gli studi scientifici la realtà clinica e Karl Popper che forse è il più grande filosofo della scienza ci dice una scienza che eviti di misurarsi con i suoi possibili errori immunizzando se stessa contro le critiche per risultare in apparenza sempre vera non è una scienza e probabilmente è quella scienza con l'H finale come qualcuno dice con ironia che chiede di avere fede invece la scienza è fatta basata guarda caso sul principio di falsificazione delle ipotesi sul quale Popper ha detto tante cose intelligenti Alberto io ti lascio un minuto per salutare i nostri ascoltatori i nostri ascoltatrici e poi passerò a dare i prossimi appuntamenti posso salutare dicendo che in realtà dopo aver detto di aver fatto una radiografia piuttosto crudele di quello che sta succedendo che dobbiamo metterci le gambe in spalla e ritrovarci io sto ritrovando anche su LinkedIn un sacco di gente che nell'analizzare quello che ci succede propone anche delle modalità di reazione quindi non basta semplicemente limitarsi a lamentarsi a insultare bisogna vedere come reagire e quindi come hai fatto tu l'esempio di quelle imprese che hanno cominciato a pagare i tamponi ai dipendenti e hanno cercato di rendergli la vita più facile delle strade ci sono io mi auguro che anche a livello di associazioni delle aziende imprenditoriali industriali e quant'altro riescano a uscire da questo cunicolo in cui si sono infilato e riescono a fare una pressione positiva una volta che hanno capito che ce l'hanno raccontata in maniera completamente diversa dalla realtà mi ero buttato fuori dallo studio volevo mettere in video me per fare i saluti dagli appuntamenti giornata tutta particolare allora stavo ringraziando Alberto per averci dato questa interessantissima panoramica e devo dire molto chiara e molto diciamo fuori dai denti se possiamo usare questa questa espressione questo eufemismo e devo dare semplicemente l'appuntamento al prossimo episodio che di nuovo sarà particolare il 9 febbraio avremo ospite Vincenzo Linarello presidente del consorzio di cooperative sociali Goel e con lui parleremo del tema dell'etica efficace Vincenzo Linarello è un carissimo amico ed è una persona veramente straordinaria un uomo di spirito di visione e direi da un certo punto di vista un imprenditore e un leader di persone veramente eccezionale quindi davvero fate il possibile per esserci e sicuramente lo potete ascoltare in podcast allora grazie a tutte e a tutti ci vediamo e ci sentiamo il 9 febbraio e o ci ascoltiamo nei podcast sui nostri canali che trovate ampiamente su tutti i nostri social buona serata grazie a tutti